... Vedete tutti fermi, non c'è movimento, si aspetta la ricezione per un tiro. Posizione complicata, si prende il rimbalzo... ...contropiede primario ed è molto bella quest'azione... ...moreno, all... ...all distanza, si verrà, segna... ...per qualche minuto... ...Michael viene chiuso, arresto, tiro, due punti... ...raramente questo break di 5-0... ...Michael... ...eccolo qui, Michael, ancora lui, vuole battere Di Liegro... ...e ci riesce, alla grana... ...permettendo di nuovo ai suoi il più 6... ...Michael finge la partenza e poi... ...quindici secondi... ...Michael in servizio per... ...di Ferrara, più 4 per i ragazzi ora in difesa di Quagli... ...scarico per Eric Rush, l'errore a rimbalzo... ...ancora lui... ...uso Di Liegro, sparacchia salve... ...e siamo già di qua con... ...Michael... ...maledettamente fatica a trovare la via del Canestro... ...ora ci prova... ...Michael... ...Canestro... ...tiro libero... ...che ha fatto Cortese... ...e poi... ...e poi c'è la poteosi... ...E poi c'è la poteosi di Quagli... ...e poi... ...c'è la poteosi... Grazie a tutti.